L'Osservatorio Valerio di Pesaro, nel cuore degli artigiuli, da centro scientifico si trasforma in centro del dibattito tra opposizione e maggioranza, con il tema che verte sullo stato attuale della struttura e dei lavori da fare per renderla agibile. A sollevare la questione è stato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Daniele Malandrino, che ai nostri microfoni ha espresso le sue perplessità sull'argomento, ripercorrendo alcuni passaggi e dichiarazioni passate che parlavano di una riapertura dell'Osservatorio ai cittadini e alla scienza entro il 2022. Qui abbiamo praticamente, sfocia il Cardo di Pesaro, quindi storicamente quale via più importante assieme al Decumano. Purtroppo la zona, se uno prova a percorrerla, vede che è tenuta in maniera, secondo me, indegna della storicità e anche dell'importanza. Le stesse mura hanno dei problemi. Mi sono accorto che l'Osservatorio Valerio, praticamente non c'erano più le impalcature, gli infissi sono sempre quelli del 2019. Mi è tornato in mente tutto il percorso che era stato fatto rispetto a un bando vinto in Regione, al fatto che è stato approvato il progetto del Comune, al fatto che era stato inserito nel piano triennale delle opere 2020-2022 e al fatto che nel 2022 era stato annunciato sia dall'assessore Pozzi che dall'allora consigliere regionale Biancani, nonché dalla capogruppo in consiglio comunale, Anna Maria Mattioli, che lanciava il progetto Ui Valerio ed erano stati dati anche delle tempistiche, nel senso che nel 2022 doveva essere reso alla cittadinanza l'Osservatorio Valerio finito, con praticamente tutte le opere per l'efficientamento energetico e strutturale completate. Cosa che in realtà a mio avviso è tutto chiuso, io non posso entrare dentro, non è stata fatta. La riprova è che ci sono catene, assi che chiudono il portone e sembra tutto in stato di abbandono. Io ho già protocollata una interrogazione assieme a tutto il mio gruppo di Fratelli d'Italia, un'interrogazione con la quale si chiede contessa dei lavori eseguiti, si chiede quando l'Osservatorio verrà restituito alla scienza e al pubblico e soprattutto, non soprattutto, è anche, cosa importantissima, in che stato di conservazione sono i registri dell'Osservatorio Valerio. Lì ci sono osservazioni giornaliere degli ultimi 150 anni e la mia paura è che, essendo già chiuso da tempo, non si sa in che stato sono stati lasciati sia le strumentazioni scientifiche che i documenti, la mia paura è che venga perso qualcosa. Oltre al fatto che questa zona è una zona che secondo me andrebbe valorizzata, una delle zone più belle e soprattutto importanti dal punto di vista storico per la città di Pesaro, che è lasciata un po' in abbandono. Grazie a tutti.